Yo 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 guys, how's it going on? C'è un bug assurdo, c'è un lag assurdo, scusate, vediamoci un po' di scia, che cazzo, non capisco, no vabbè, no vabbè raga, no questo lag così non si può giocare, cioè guardate qui, no veramente non si può giocare, vabbè, che cazzo, dai fatemi, no, non so, mi hanno inculato da dietro, siamo ultimi praticamente, dai, lei, Guardate raga, che sta succedendo, madonna mia, qui abbiamo una discesa, e cazzo che discesa raga, madonna mia, allora raga va, va, stiamo andando fortissimo, 180 miglia, sono, sono tantissime, eccola qui, superiamo, cazzo raga, stiamo volando, porca Eva stiamo volando, qui c'è un salto, no non c'è il salto, mamma mia ragazzi, immaginate, eccola qui il salto, eccola, Immaginate se c'è così sale un salto, eccola qui il salto raga, madonna, guardate che bellezza, auto volare a caso, è a terra su di questo, lo sapevo, andiamo di davanti qui, ok, ottimo così, siamo terzi ragazzi, vi prego non mi buttate, non mi buttate per aria, andiamoci a prendere questo primo posto ragazzi, ci usciamo, madonna, ora risaliamo tutto, stupenda raga sta gara, forse una delle più belle, se non la più bella vista, senza nessun tubo, roba del genere, almeno salti enormi, Dai così, facciamo una, un front flip in aria, interriamo, stiamo salendo praticamente di uno sopra, raga, incredibile, vabbè questa è grazie, soprattutto a quei, a quei turbo lì, senza quei di quelli, non, non si può fare nulla, raga, qui secondo me la grotti proto è la migliore, eh, perché la più veloce del gioco è, è veramente la migliore, attenzione, parabolica, incredibile, L'auto di rapo un po', stiamoci dritti, raga, cerchiamo di recuperare questi due davanti, io sono andato al massimo, ma non ci riesco, loro hanno la grotti, o solo uno ce l'ha, solo uno ce l'ha che pare, sì, l'altro è l'Osiris, vedete raga, l'Osiris riesce a competere comunque sempre, e stare al primo posto, ok raga, uno è andato fuori, noi siamo dietro al secondo posto, no 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 no, non vi colpite bene così, dammi un po' di scia, dammi un po' di scia, ok, perfetto raga, altre cube infami, queste raga, le infami, queste curve, però dovrebbe essere un po' meglio la nostra auto in cui ho fatto la size, scusami Matthew, ok, mi ha salutato anche lui, bellissimo questo circuito in cilla, raga, veramente incredibile, ho rischiato tantissimo a farla così stretta, ancora qui raga, freniamo un po', al massimo, ora al massimo, già ce l'ho recuperato dietro, cioè com'è possibile? Fatto il range lagga come veramente una bestia, guardate qui, quella che all'inizio mi butta fuori, no raga, è incredibile, fatto il range veramente sta fatto, sicuro vado fuori, ma sicuro mi butta fuori a casa, sicuro, cerchiamo di stare lontani, no però me è davanti ora, dove va? Destra a sinistra lui, ok, va dall'altra parte, bene così, ah questa è quella là della, della miniatura, della foto che ho visto da Rockstar, stupenda raga, veramente stupenda raga, che bellezza, guardate qui, ok, sicuramente ora ci supera con la scia, no però ha frenato, è stato molto corretto qua Matthew, stessa velocità ovviamente di fatti d'orange, ora un po' di scia raga e lo fruttiamo, oh, ragazzi sono primo, ultimi metri e andiamo a vincere, all'ultimo centesimo di secondo, anzi millesimo di secondo, una gra, sudatissima, ragazzi quella prota ci aveva recuperato incredibilmente tutto perché, ovviamente con la massima velocità che ha, e questa è la classifica, la la R7B, non so di chi, non so dove era posizionata prima, comunque è arrivata dal quarto, ah era rifatta d'ora, il giorno era la mia stessa auto, quindi raga era quella la velocità, simile, se il video vi è piaciuto io su, tengo le mani sudati raga, se il video vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo ovviamente al prossimo video ragazzoni, un abbraccione a tutti, vi voglio bene, fallo e noice